buongiorno e benvenuti nel mio canale avete dei dubbi o dei sospetti che qualcuno sfrutti il vostro wifi per collegarsi ad internet perché magari avete notato dei rallentamenti ultimamente si può verificare con questa applicazione per android che si chiama chi c'è sul mio wifi con questa applicazione si possono visualizzare tutti i dispositivi connessi con il nostro wifi ma anche con la rete internet via ethernet in modo eventualmente da dargli dei nomi quando si gli da dei nomi poi se se ne vede uno nuovo che non abbiamo ancora nominato significa che quello sta sfruttando il nostro wifi e quindi magari si individua immediatamente per poi agire di conseguenza naturalmente quindi si installa si può installare da qui o poi si può installare direttamente dal nostro android vediamo come installarlo direttamente dal nostro dispositivo android apri il google play store si mette magari tutto schermo si digita chi c'è sul mio wifi chi c'è sul mio wifi ecco qua è già anche predisposta la ricerca si apre questa applicazione e quindi si va su installa per installarla sul nostro android adesso è installata si va quindi su apri e questa diciamo così che visualizzerà tutti i dispositivi che sono collegati naturalmente prima dovremo dare le autorizzazioni si va quindi sulla consento accetta e continua e adesso si va su inizia la ricerca per iniziare la ricerca dei dispositivi che sono collegati sì io consento l'accesso naturalmente mentre usi l'usil app adesso sta cercando e probabilmente troverà il numero dei dispositivi che sono collegati troverà sia dispositivi fisici sia dispositivi immobili ovviamente non soltanto in taluni casi gli potrà dare un nome perché in genere i nomi dovremmo essere noi a darli come si va a dare noi al limite si tiene tutto spento poi se ne accende uno e si si dà un nome poi se ne spegne un altro e si un nome a quello e quindi si si cerca di capire quali sono i nostri dispositivi questo momento sono dieci dispositivi che è un dispositivo mobile che è un mio mio cellulare io chiaramente lo posso chiamare questo one plus 8 su salva poi questo punto di accesso questo è il router chiaramente posso chiamare su salva poi ci sono altri dispositivi io per esempio il team box o anche un computer surface go poi ho anche alexa che è collegato con wifi in sostanza bisogna controllare tutti questi dispositivi prima spegnendoli poi riaccendendoli per vedere appunto quello che si viene e che viene riattivato si va qua per esempio io in questo momento sono dieci dispositivi posso per esempio scollegare un dispositivo e magari diventeranno nove come vedete ho scollegato un dispositivo adesso sono diventati nove posso ricollegarlo e quindi io capisco qual è quello che ricollego e quindi posso dare il nome dopo che ho nominato tutti i dispositivi posso quindi rilevare quello che non è il mio e che eventualmente è di un'altra persona che sta sfruttando la mia connessione chiaramente se uno ha la password è difficile che qualcuno ci sfrutti la connessione però può capitare può capitare se magari uno viene a conoscenza della della password con dei sistemi magari di rilevazione di password che esistono questo è un sistema secondo me semplice efficace che e che non costa nulla per verificare le persone che si collegano alla nostra rete internet domestica come seconda opzione per visualizzare tutti i dispositivi connessi alla nostra rete internet c'è fing che più o meno è simile all'altra c'è chi preferisce questa chi c'è sul mio wifi c'è chi preferisce fing magari provate entrambi e poi decidete quella che vi piace di più dopo averla installata si passa al nostro smartphone per controllare appunto quali sono i dispositivi connessi si apre fing eccolo qua anche qua bisogna consentire le notifiche benvenuto in fing si va su avanti ovviamente si accettano le condizioni si abilita la localizzazione mentre usi l'app non è richiesto alcun account ma potresti volerne uno ci penserò qui sono professionista sono appassionato posso gestire cerco aiuto magari uno può scegliere quello che gli pare qui pronto per eseguire la scansione di questa rete per la prima volta e si va su scansiona la rete corrente in questo modo e viene visualizzato vedete il router poi qui è molto più diciamo così dettagliata della precedente qui viene immediatamente visualizzato il nome anche qui viene visto subito il team vision box il modem telecom poi ci sono altri la televisione che a cui io non l'ho nominata con il mio nome poi c'è oneplus 8 che è appunto il mio cellulare poi c'è il laptop asus che è il computer che è acceso in questo momento e quindi vengono diciamo così visualizzati immediatamente tutti i dispositivi connessi e se uno magari vede un dispositivo che ha dei dubbi eventualmente lo controlla meglio dopo aver selezionato un dispositivo si può inviargli un ping cioè un pacchetto di dati per visualizzare il risultato oppure si può andare su rimuove il dispositivo appunto per rimuoverlo dall'elenco dispositivo non riconosciuto uno cerca di visualizzare di controllare se è un proprio dispositivo oppure sia un altro chiaramente molte case ci sono anche più di dieci dispositivi per esempio in casa mia ci sono circa una decina e uno controlla eventualmente poi per ogni dispositivo si può dare una controllata ulteriore andando qua come vedete c'è sistema operativo la marca il nome in questo caso si tratta del del chrome cast che anche quello è un dispositivo che viene riconosciuto immediatamente e qui sotto ci sono tutte le varie opzioni dispositivi poi c'è la rete che si può scegliere anche un'altra rete la sicurezza otto dispositivi non confermati uno chiaramente quando gli conferma poi nel momento in cui gli ha confermati eventualmente poi se ce n'è uno nuovo uno viene avvertito l'access point a una protezione insufficiente chiaramente uno può che loro vogliono che tu sblocchi tutto con premio ma questa è una cosa che si può attivare oppure no quindi prestazione della velocità e chiaramente si può anche aggiornare per andare su dispositivi si aggiorna per vedere se per esempio è stato acceso ad un altro dispositivo proprio posso accendere un nuovo dispositivo lo accendo in questo momento magari e magari lo può visualizzare immediatamente il momento in cui lo accendo vado su aggiorna adesso i dispositivi come vedete sono diventati 9 perché ne ho acceso un altro diciamo che forse finge è più dettagliata rispetto a chi c'è sul mio wifi questo appunto è il messaggio che la voce sintetica mi mi dà tutte le volte che accendo un computer personalmente non saprei quale scegliere diciamo che è più immediato chi c'è sul mio wifi finge più dettagliato a voi la scelta io ve lo presentate e questo è tutto alla prossima volta